La musica è una delle espressioni massime dell'arte e è quella forse che raggiunge più di tutto il cuore. In situazioni come queste, c'è una cattedrale, fra l'altro una cattedrale che è stata ornata da dei capolavori assoluti, l'accostamento della musica all'arte lo si gode in pieno e questi capolavori fanno da contorno e un rinvio continuo al sentimento che è poi all'origine, se vogliamo, della stessa realizzazione di questi capolavori. Quindi l'esecuzione di una musica artistica all'interno di una cattedrale trova veramente il momento più alto e quello nel quale chi l'ascolta può entrare maggiormente in sintonia con il proprio cuore. Gesù Gesù Grazie a tutti. Grazie a tutti.